e sarà sarà la classifica della serie a il mio pronostico che non me l'ha chiesto nessuno ma lo faccio anch'io buongiorno amici dello zoccolo duro dalla piscina vedete si vede la piscina si sto in piscina oggi relax 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 allora siccome tutti vedo che fanno i pronostici la serie a sequel ha chiesto a tutti di fare il pronostico della serie a a me non mi ha chiesto niente e io lo faccio lo stesso anche se non me l'ha chiesto nessuno io ho fatto il pronostico allora partiamo sempre partiamo sempre dal presupposto che il mercato è ancora tutto da fare cioè quale io sto facendo un pronostico dove c'è le squadre non sono terminate quindi non è che mi dovete insultare faccio un pronostico in previsione anche di quelli che saranno gli acquisti quindi non solo ad oggi ma in previsione di quelli che saranno gli acquisti poi magari ne farò un altro se cambiano tante cose diciamo che prevedo che qualcuno qualcosa comprerà quindi il mio pronostico partiamo dal pronostico partiamo dall'ultima dalla ventesima dalla squadra che arriverà ultima in classifica non me ne vogliano non me ne vogliano gli amici di giulietta tanto mia moglie pure si chiama giulia però il verona lo vedo ultimo ultimissimo ultimissimissimissimo perché non doveva neanche salire in serie a non che non se lo sia meritato se lo sono meritato ma era inaspettato anche per loro salire in serie a l'anno scorso poi alla fine nelle partite che contano giustamente si sono fatti valere però secondo me non sono attrezzati per rimanere in serie a infatti ci giocheranno l'ultimo posto proprio le neopromosse che secondo me ve lo dico in segreto retrocederanno tutte e tre tutte e tre quindi ultimo il verona ventesimo diciannovesimo il lecce amici miei del lecce cari amici miei pugliesi so che si stanno muovendo volevano borucchi il marzo volevano quello volevano quell'altro però alla fine secondo me la serie a è difficile 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 quindi nada non ci sarà speranza neanche per il lecce poi mio padre di antra provincia di bari quindi sono semi nemici non è vero non è vero e anche il brescia ragazzi miei nonostante il nuovo fenomeno tonale il nuovo pirlo di qua di là cellino che comunque cellino non è un gretino alla fine con una lotta strenua tra brescia e altre squadre che adesso vi elencherò secondo me diciottesimo il brescia quindi le tre retrocesse saranno le tre promosse verona lecce e brescia sarà anche che perché sono quelle che conosco meno può essere quindi posso anche sbagliare però al momento metterei queste perché la serie a è proprio un altro livello poi chi si salverà all'ultimo al diciassettesimo posto che si salverà proprio per rotto della cuffia all'ultimo posto secondo me la spalla la spalla nonostante semplici fa un calcio semplice che porta risultato l'anno scorso hanno avuto l'esploit subito inizio anno poi un picco quest'anno prevedo che non ci sarà con l'esploit quindi lotteranno fino alla fine però la spalla qualcosa in più anche avendo perso l'azzari comunque hanno un petania rigenerato e soprattutto un semplici che secondo me può fare bene 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 ma c'ha già la testa per andare via ve lo dico io ve lo dico io poi al sedicesimo posto sedicesimo posto ci mettiamo il bologna il bologna del buomi ajlovic perché li voglio bene a sinistra però tutti sappiamo che ha dei problemi extra calcio da risolvere che per motivi non personali fondamentalmente questi motivi extra calcio si faranno pesare anche sul campo perché non avrà il 100% da dare alla squadra avrà altre cose per la testa non so chi lo sostituirà quando ci sarà quando non ci sarà e poi il bologna è una squadra che già l'anno scorso stava retrocedendo non ha fatto questi grandi acquisti quindi non vedo perché quest'anno debba fare ho messo salvezza perché comunque penso che si salveranno ma sedicesimo posto sedicesimo posto poi al quindicesimo posto prevede un crollo 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 del sassuolo del sassuolo perché il sassuolo comunque l'anno scorso anch'esso è partito con Boateng bo bom bo bom anche Babacar l'hanno venduto e De Zerbi fa un bel gioco sì ma è sempre un gioco che secondo me porta pochi punti quel gioco di De Zerbi quindi prevedo che scenderà parecchio fino al quindicesimo posto che poi l'anno scorso è arrivato molto lontano però quindicesimo posto sassuolo farà i soliti sei punti con l'Inter ah ah e quest'anno non farà e quindi a maggior ragione arriva quindicesimo poi quattordicesimo posto una squadra che invece tutti danno giù e gli secondo me invece risalirà un po' la china è l'Udinese 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 perché quest'anno con Tudor secondo me partirà subito in maniera bella quadrata e compatta e a meno che non vendano De Paul che pare che non lo vendono poi c'è Marino a me piace Marino che è arrivato di qua di là quattordicesimo posto salvezza tranquilla quest'anno per l'Udinese tredicesimo posto tredicesimo posto per il Genoa di Scione grande acquisto Scione il Genoa anch'esso una salvezza tranquilla calcola che le classifiche dal sedicesimo al dodicesimo posto sono difficili perché non ti giochi nulla non ti giochi la salvezza nel senso che ti salvi tranquillamente e non ti giochi neanche l'Europa League quindi sai nelle ultime giornate può succedere di tutto puoi arrivare dodicesimo come sedicesimo che non cambia nulla quindi io li metto secondo me come sono le squadre e il Genoa poi dodicesimo posto Fiorentina tra l'altro ho visto proprio il Pucci viola che faceva la classifica ha detto se la far Pucci la faccio anch'io la faccio la la far Pucci la faccio anch'io la faccio la classifica e la faccio pure io undicesimo posto undicesimo posto per il mio amico Daniel della coppia dei campioni tifoso del Parma il Parma ha tenuto inglese ha tenuto gerbigno ha tenuto da versa non vedo perché non debba far bene l'anno scorso ha fatto benissimo poi le ultime giornate siccome era strasalvo si è lasciato andare quasi le retrocedeva però era strasalvo il Parma avendo tenuto bene o male quelli che aveva anzi ha preso anche qualche rinforzo secondo me un undicesimo posto tranquillo per il Parma al decimo posto nell'anno del centenario l'anno del centenario del Cagliari stanno mettendo su una grande squadra Nandez, Nengolan, vogliono pure Simeone hanno preso Rogue io lo vedo decimo quest'anno il Cagliari anno del centenario tutti i gasati faranno secondo me un'ottima stagione per salvarsi in tranquillità non ho posto e iniziamo ad andare nei posti caldi posti caldi posti caldi tanto vedete qua tutto questo fumo qua sembra che mi stanno cucinando in realtà sono ovviamente gli spruzzini freschi spruzzini dicevamo non ho posto non ho posto la Sampdoria la Sampdoria un po' più giù no non penso che sia arrivata così anche quest'anno come al solito farà la sua buona stagione poi si tranquillizza ci sa c'è di mezzo anche la cessione tra Ferrero e Viali potrebbe addirittura vi dico una cosa la Sampdoria io l'ho messa a Nona ma potrebbe tranquillamente fare un salto fino al tredicesimo posto perché appunto ci sono questi cambiamenti con Viali scelta però Nona è tranquillo e adesso arriva la parte difficile parte difficile dall'ottavo posto in su perché poi ci si va a giocare l'Europa League ci si va a giocare la Champions ottavo posto lo so che adesso mi insulterete intanto scrivete qua sotto la vostra di classifica così poi vediamo però qua la dovete scrivere oggi non che me la mettete dopo qua oggi che c'è la data all'ottavo posto indovinate chi metto e non ve l'aspetterete mai non ve l'aspetterete mai la Roma mi spiace per gli amici romani mi spiace lo so che mi peccherò insulti da tutte le parti ma io non credo agli allenatori stranieri soprattutto quelli offensivi che vengono a fare il campionato italiano tanto la Roma deve fare anche la coppa quindi cioè sinceramente io la vedo non la vedo bene da Roma non la vedo bene la vedo da ottavo posto mi spiace so che mi prenderò gli insulti però io non credo al primo anno agli allenatori stranieri magari fra due anni mi metterà un gioco non lo so se mai forse che non arriva il panettone però no non che glielo auguro però la mia previsione è questa poi settimo posto settimo posto sotto il mio numero 7 magno settimo posto per il Torino di Mazzarri Torino di Mazzarri molto concreto molto compatto penso io che potrebbe uscire anche dall'Europa League col Wolverhampton di Patrick Cutrone spero di no per loro spero che faccia l'Europa League dato che sono entrati al posto nostro gli auguro di fare l'Europa League ma non facendo l'Europa League a maggior ragione potrebbero arrivare tranquillamente settimi facendo invece l'Europa League potrebbe scambiarsi con la Roma arrivare ottavo e questo è un posto importante perché penso che ci sia di mezzo essere o non essere in Europa League essere o non essere essere o non essere però il Torino io lo vedo bene lo vedo bene l'unica cosa bisogna capire se fa la coppa o meno a proposito di coppa un'altra squadra che secondo me scenderà fino al sesto posto fino al sesto posto è l'Atalanta Atalanta perché fare la Champions peserà peserà tra l'altro secondo me faranno anche una buona Champions e potrebbero finire in Europa League e fare poi anche l'Europa League quindi a maggior ragione l'Atalanta sesta perché l'anno scorso hanno fatto tutto con l'espoa proprio perché non avevano le coppe però quest'anno sesto quinto posto quinto posto quinto posto quinto posto per la Lazio e il cuore mente vola Lazio so che le parole non sono queste quinto posto per la Lazio che farà un grande campionato come sempre che vada o non vada via Milinkovic Savic ancora non si sa per ora non è partito in ogni caso nel bene o nel male la Lazio è sempre da tutti gli anni tutti gli anni è sempre lì poi non c'entra sempre di poco la Champions ma tutti gli anni arriva lì non vedo perché quest'anno non debba arrivare lì non è che ha cambiato moltissimo quindi la vedo lì al quinto posto la Lazio quarto posto ragazzi il quarto posto è già scritto c'è già una squadra lì al quarto posto che siamo noi che faremo questo quarto posto con Jean Paul Jean Paul quindi Milan da quarto posto tranquillo anche direi non sarà lottato come quest'anno finirà molto prima il quarto posto molto tra il quarto e il quinto ci sarà molto più di stacco segnatevelo le prime tre Napoli-Inter-Juve adesso vediamo come le mettiamo come le mettiamo come le mettiamo questa è molto difficile da fare perché io credo molto nel Napoli di quest'anno soprattutto se prendono Ames con Carletto Ancelotti ma io so per esperienza che Carletto 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 è il re dei mostri Carletto è più bravo in Coppa che in campionato e quindi lo metto terzo allora il mio augurio il mio augurio è che vinca il campionato il Napoli che lo preferisco nettamente a Juve-Inter quindi io metto terzi anche per scaramanzia proprio perché gli auguro proprio di vincerlo e le prime due le prime due le prime due sono la stessa squadra quindi la Juventus cioè la Juventus titolari e la Juventus riserve allenata da Conte ovviamente penso io che tra titolari e riserve arriverà prima la squadra dei titolari quindi se Sarri non fa disastri che non succede chissà cosa deve succedere dovrebbe arrivare prima la squadra dei titolari mentre la squadra delle riserve allenata da Conte secondo posto questa è la mia classifica ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate non mi insultate perché comunque sono pronostici posso sbagliare non è che sono il mago telma sono pronostici quindi uno ognuno dice la sua e soprattutto il mercato è ancora lungo e faticoso e soprattutto faticoso scrivetemi la vostra di classifica che sarà quella che varrà a fine anno quando faremo il resoconto di queste classifiche sono andato lunghissimo iscrivetevi allo zoccolo duro un saluto a sequel anche se non lo conosco non lo conosco non ci siamo mai parlati però lo saluto lo stesso che ha creato questo questa cosa anche se non me l'ha chiesto io l'ho fatto lo stesso e ci vediamo al prossimo video ciao belli